Buona serata. Sono costretto a ritornare su un argomento che già abbiamo affrontato e che può piacere o non piacere, qui il problema non è di condividere o non condividere, avere idealmente delle proprie aspirazioni o quelle che sarebbero la legge perfetta, il problema è che a volte la legislazione risponde a determinati criteri che possiamo condividere o non condividere, ma il problema è prendere atto di quello che è, perché sennò è come se uno gioca una partita senza sapere quali sono le regole, ma giocando la partita con le regole che vorrebbe e che è sbagliato, le regole che vorrebbe non devono essere tenuti conto, eventualmente possono essere tenuti conto in una discussione politica ideale di riforma, ma non analizzando i problemi concreti che abbiamo davanti. Quando un lavoratore viene licenziato abbiamo più volte detto che ha diritto a impugnare il licenziamento e se il giudice dichiara che quel licenziamento era ingiustificato, era ingiusto ha diritto ad un risarcimento, un risarcimento che sappiamo variare tra piccole e grandi aziende, probabilmente troppo differenza tra piccole e grandi aziende, ma è un altro argomento questo. Quello che voglio dire è che se il lavoratore, andando davanti al giudice, il giudice invece dichiara che quel licenziamento era giustificato, attenzione, non sto dicendo giusto, perché giusto è un termine morale, può essere un licenziamento cattivo, ma non è il problema del buono o cattivo, il problema è se è legittimo o non è legittimo e quindi se il giudice dovesse dichiarare che il licenziamento è legittimo, il lavoratore non ha diritto a risarcimento. D'altra parte il datore di lavoro ha degli spazi di discrezionalità e laddove questi spazi di discrezionalità vengono utilizzati correttamente non è tenuto a dare nessun risarcimento. Come un lavoratore perde il posto di lavoro e non ha un diritto a un risarcimento, ha diritto da parte della collettività alle previdenze della disoccupazione, ha diritto eventualmente all'indenità di disoccupazione, oltre evidentemente a percepire i soldi già valegnati, TFR e quant'altro, ma non ha diritto a un risarcimento per un danno che non gli è stato inferto, perché perdere un posto di lavoro è un danno, ma non gli è stato inferto, non gli è stato dato dal datore di lavoro in modo illegittimo, non ho usato la parola ingiusto, ho detto illegittimo. Faccio un esempio classico, il datore di lavoro licenzia, però non è un datore di lavoro in crisi, non è un datore di lavoro che ha problemi di difficoltà economica, il lavoratore tende a impugnare, ma come? Guadagnano un mucchio di soldi. Il datore di lavoro può giustificare legittimamente per una sopravvenuta inutilizzabilità di quel lavoratore all'interno dell'organizzazione aziendale, perché? Perché le modifiche tecnologiche, perché le modifiche merceologiche delle materie che vengono trattate da quelle aziende sono cambiate e quindi il datore di lavoro certe materie non le tratta più, certe professionalità quindi non ne ha più bisogno. Cito un esempio classico, nel mondo dell'editoria, della stampa, noi sappiamo che fino a pochi anni fa esistevano una categoria dei lavoratori che erano peraltro lavoratori di alta professionalità e alta specializzazione al limite dell'artistico, che erano quelli che lavoravano su un piombo, cioè quelli che compilavano le pagine con i caratteri a piombo. Questo lavoro è scomparso e non è che la ditta di dottoria a quel punto ha licenziato, alle ditte di dottoria hanno licenziato e tutto questo lavoro è scomparso, purtroppo è scomparso. È ingiusto forse questa scomparsa, ma in qualche modo bisogna tener conto che quel datore di lavoro aveva la legittima diritto di poter risolvere il rapporto di lavoro. Quindi vuol dire che all'avvocato, al consulente, nell'analisi che uno deve fare, non si deve porre il problema se una cosa è giusta o ingiusta, è bella o brutta, perché queste sono valutazioni personali, morali, deve domandarsi se quel provvedimento è legittimo o è illegittimo e se il provvedimento è legittimo, non è legittimo, ancorché brutto, politicamente inaccettabile, tutto quello che vogliamo, ma è legittimo. Il lavoratore, ahimè, non ha diritto a un risarcimento, il che vuol dire che prima di fare una causa, pensarci un attimo, rifletterci un attimo, perché si potrebbe anche avere delle brutte sorprese, non solo non portare a caso il risarcimento, ma prendere anche una sconfitta con possibile condanna le spese della controparte, quindi oltre il danno, anche la beffa. Grazie. Buonasera, oggi parleremo degli infortuni sul lavoro, un tema del quale si parla diffusamente, sebbene vi sia la necessità di approfondirlo ancora di più, perché i numeri che riguardano gli infortuni sul lavoro, senza timore di esagerare, sono decisamente allarmanti. Secondo i dati diffusi dall'Inail, nel periodo che va da gennaio-ottobre abbiamo avuto 534 mila denunce di infortunio e questo è un numero che riguarda esclusivamente le denunce effettuate regolarmente, quindi esclude tutta la parte di sommerso e di denunce di infortuni che non sono stati dichiarati. Di questi numeri 945 sono infortuni che hanno avuto un esito mortale per il lavoratore o la lavoratrice, sono pertanto dei numeri sui quali decisamente occorre riflettere e intervenire, singolarmente vi sono diverse soluzioni che può intraprendere il lavoratore o la lavoratrice per tutelarsi. Comunemente la strada seguita che si ritiene quella meno, che espone meno il lavoratore presso il datore di lavoro è quella della strada civile, occorre però valutare anche l'opportunità di seguire l'ipotesi di seguire il procedimento penale, questo perché? Perché seguire sia il procedimento civile e il procedimento penale consente di fare una pressione diversa sul datore di lavoro al fine di ottenere il risarcimento del danno, certamente l'ipotesi che almeno per l'esperienza di questo studio ricorre il più delle volte è seguire strada civile e penale contemporaneamente laddove comunemente il più delle volte il rapporto di lavoro si sia in qualche modo estinto e questo consente al lavoratore una certa libertà di manovra e quindi la possibilità di pretendere con maggiore energia il proprio risarcimento del danno. Non sempre però è così, il più delle volte occorre seguire e contemperare l'interesse del lavoratore ad avere il risarcimento del danno con un diritto non meno importante e l'esigenza di esporlo meno possibile con il datore di lavoro se il rapporto di lavoro continuerà. Quindi cercare di coniugare queste due esigenze che sono entrambi importanti. Pertanto il legislatore sapendo che esiste questo tipo di rischio sul posto di lavoro a seguito di un infortunio ha pensato di introdurre per quanto riguarda il procedimento penale una norma che consente al lavoratore appunto di non esporsi. Qual è questa norma? La norma è l'articolo 590 del codice penale laddove prevede che quando vi sia un infortunio con una prognosi superiore a 40 giorni il procedimento parte d'ufficio, non c'è bisogno di una queriera del datore di lavoro. È pertanto lo Stato che si fa carico di seguire il procedimento e di proseguire il reato. Questo consente quindi al lavoratore di inserirsi in un procedimento penale senza che sia stato lui a originarlo e in qualche modo si uniscono due esigenze. Da parte del datore di lavoro l'esigenza di presentarsi al procedimento penale davanti a un giudice dopo aver risarcito il danno, cosa che gli consentirebbe anche di avere uno sconto di pena perché costituisce una circostanza attenuante prevista dal codice. Da parte del lavoratore chiaramente l'opportunità di avere un risarcimento del danno. Questo quindi a differenza della strada civile che è una strada in cui il procedimento parte su iniziativa di parte, in questo caso essendo il pubblico ministero a fare delle indagini a proseguire nel procedimento, consente al lavoratore di ottenere un risarcimento senza un'esposizione eccessiva. Pertanto quello che occorre è seguire il procedimento penale eventualmente avvalendosi di una consulenza legale di tipo penale, presentando se del caso documentazione medica al pubblico ministero al fine di documentare l'entità dell'infortunio subito e laddove non vi sia un risarcimento del danno, cosa che comunque comunemente noi non riscontriamo perché è importante che il datore di lavoro risarcisca il danno, si discuterà certamente sulle cifre ma sull'opportunità di risarcire lo stesso datore di lavoro e certamente il legale che lo assiste sono consapevoli della necessità di risarcire questo danno. Occorre pertanto cercare di raggiungere un accordo, quando questo non si riesce a raggiungere, valutare se costituirsi parte civile nel procedimento penale. La costituzione di parte civile nel procedimento penale è un'azione con la quale il lavoratore, laddove non abbia ottenuto questo risarcimento del danno, entra formalmente nel procedimento penale portando il proprio interesse civile al risarcimento del danno all'interno del procedimento penale e a seguito di condanna ottenere il risarcimento del danno. Pertanto sebbene può sembrare un controsenso il procedimento penale può dare una facoltà al lavoratore di esercitare una pressione sul datore di lavoro senza assumersi un eccessivo rischio di subire delle ritorsioni sul luogo di lavoro. È pertanto necessario, opportuno che si diffonda la possibilità e la consapevolezza da parte del lavoratore della circostanza che valga la pena di seguire il procedimento penale e di avvalersi anche di una consulenza di questo tipo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto di un'altra domanda. Grazie a tutti.